In questa puntata di In Viaggio con me andiamo nell'Africa Nera, precisamente in Zimbabwe, per scoprire un paese ricco di approdi turistici sorprendenti come le straordinarie Cascate Vittoria che attraggono ogni anno migliaia di turisti. Ma lo Zimbabwe è una meta ideale anche per vivere la natura senza barriere, soprattutto per gli amanti dei safari che hanno la possibilità di incontrare gli animali davvero in modo ravvicinato. Non mancano comunque attrazioni fuori dai tracciati tradizionali che hanno un fascino quasi ancestrale come Grey Zimbabwe dove di fatto è nato il paese, le profonde e oscure grotte di Cinoe, ma anche le pitture rupesti di Balancing Rock e Domboshawa, luoghi naturali imperdibili almeno quanto le sponde del lago artificiale di Cariba, la cui creazione è merito di una diga italiana. Tutto questo in viaggio con me. Arrivare in Zimbabwe non è proprio una passeggiata di salute. Dall'Italia ci vogliono almeno tre scali per giungere nella capitale arare che pur essendo una tappa obbligata non si distingue certo per attrazioni che valgono un viaggio di 15 ore. Bisogna quindi contemplare almeno uno scalo interno che approda a Victoria Falls, luogo che da solo vale tanta fatica. Prima di esplorare le cascate il mio consiglio è di lasciarsi cullare dalle acque dello Zambesi, il fiume che dà origine alla grande attrazione del luogo. Le sue sponde segnalo il confine geografico tra Zambia da una parte e Zimbabwe dall'altra, regalando al giusto orario tramonti da cartolina. Ma gli scatti a raffica li farete solo se, prendendo fiducia, deciderete di sorvolare le cascate con l'elicottero, una di quelle attività che non vi scorderete mai più nella vita. Fatti i debiti scongiuri, ecco che cosa vedrete. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed eccoci alle cascate Vittoria, una delle sette meraviglie del mondo. Qui l'acqua cade a un'altezza di 120 metri, il doppio rispetto alle cascate del Niagara. Pensate che la nuvola d'acqua generata dalla cascata può raggiungere un'altezza fino a 1600 metri ed è visibile ad oltre 40 km di distanza. Questo significa che qui una doccia extra non ve la leva proprio nessuna. effettivamente per quanto spettacolari siano le immagini dall'alto non meno impressionanti sono quelle dal basso che permettono di vedere e sentire da vicino tutta la potenza dell'acqua che nella stagione delle piogge raggiungono a portata di ben 9000 metri cubi al secondo. Il fragore delle rapide è come quello dei tuoni e seguendo l'itinerario lungo il salto delle cascate avrete modo di rinfrescarvi vigorosamente con spruzzi improvvisi che garantiscono un secondo giro di shampoo non sempre del tutto desiderato. Volendo le cascate sono visibili anche attraversando il famoso ponte che permette di giungere a piedi in Zambia ma non mi sento di consigliare a tutti i costi la trasferta nella vicina città di Livingstone. Mentre invece suggerisco ai più temerari di lanciarsi nel vuoto in questa gola sperimentando una impressionante caduta libera da 111 metri d'altezza. Test definitivo per le vostre coronarie. Se oltre alle cascate avete scelto di venire in Zimbabwe per vedere gli animali avete fatto benissimo. Qui rispetto a molti altri posti gli animali si incontrano spontaneamente come i giapponesi a Venezia. Basta scegliere una delle numerose riserve naturali del paese come quella di Stanley e Livingstone a Victoria Falls per fare dei safari coi fiocchi. Ovviamente come sempre ci vuole molta pazienza e un pizzico di fortuna per imbattersi ad esempio in un branco di zebre che a vederle da vicino sembrano simpatiche anche a chi non è di fede bianconera. Girando per i tracciati indicati dai ranger si vedono sovente anche i facoceri questi un po' meno simpatici, le antilopi, gli impala e pletore di inumididi. Il tutto con rischi relativamente calcolati. In tanti posti dove si poteva bucare una ruota noi abbiamo scelto il posto ideale a fianco ai rinoceronti. La fatica fisica di cambiare una ruota vi posso assicurare che è ben poca cosa rispetto alla paura di vivere l'esperienza di un incontro ravvicinato con i rinoceronti che tutto sono tranne che cuccioli da compagnia. Meno male che il tramonto ci ha regalato una giraffa decisamente più rassicurante. Spostandosi nella riserva naturale di Wange abbiamo avuto modo di imbatterci in esemplari di coccodrilli, di antilope alcine, bufali e molti elefanti che nonostante il mio amore per Dumbo a vederli a un palmo di naso mi hanno fatto una certa impressione. Aspettare il calare del sole da queste parti è pura magia e siccome gli animali ci tengono a farci capire chi è che comanda da queste parti a cena hanno voluto ribadire il concetto con discreta nonchalance. Per scoprire il paese si può girare tranquillamente in auto. Lo Zimbabwe è infatti una destinazione piuttosto sicura e lungo le grandi arterie del paese tra alberi di baobab i cui frutti sono uno snack prelibato ci si può imbattere nei villaggi tradizionali come questo. Ecco questi sono i tipici villaggi che si possono incontrare uscendo fuori dai grandi centri abitati in Zimbabwe. Questi villaggi sono molto caratteristici non solo per le peculiari case capanne con questi tetti spioventi che in inglese vengono chiamati proprio hat come cappelli ma anche perché qui ognuno ha la sua abitazione le donne stanno da una parte gli uomini dall'altra gli anziani e i genitori hanno la loro casa. Insomma nonostante la povertà è evidente l'equilibrio familiare da queste parti regna sovrano e forse abbiamo qualcosa da imparare. Ma su una cosa noi italiani possiamo vantarci sappiamo fare le dighe. Spingendosi al confino nord occidentale si può infatti ammirare una grande opera di ingegneria nazionale inaugurata nel 1959. La diga che ha permesso di creare il lago Cariba il bacino artificiale più grande al mondo per volume d'acqua fonte essenziale per la fragile economia locale. Grazie al lago infatti qui sopravvivono senza troppi stenti piccoli villaggi di pescatori come ci racconta l'esperto locale Takuna. Le barche che pescano prevalentemente i piccoli pesci capenta escono alle 3 del pomeriggio e rientrano alle 8 della mattina per 22 giorni consecutivi a mese e i pescatori si riposano solo durante il periodo di luna piena. Avendo voglia e tempo a disposizione lo Zimbabwe offre al viaggiatore numerose attrazioni non proprio scontate o banali come le grotte di Cinoi a circa 2 ore di auto a nord di Harare. La discesa alla grotta principale regala uno specchio d'acqua blu cobalto davvero ipnotico mentre l'altra grotta chiamata non a caso Black Cave è pericolosamente buia e misteriosa e senza una torcia rischiate veramente la vita. Altrettanto misteriosi sono i dipinti rupesti di Balancing Rock raggiungibili in meno di un'ora d'auto dalla capitale. Questo posto prende il nome dalle curiose e sorprendenti rocce sovrapposte in perfetto equilibrio. Per scoprire i punti più belli bisogna camminare parecchio ma non mancano le sorprese. Ecco dopo tanta fatica siamo arrivati in un luogo dove Giacobbo ci farebbe volentieri una puntata di Voyager. Il motivo è che qui il mistero si infittisce. L'interpretazione infatti di questo disegno è davvero particolare. La leggenda narra infatti che questo dipinto sulla cosiddetta roccia del diavolo sia stato realizzato da un boscimane in stato di trance dopo aver osservato addirittura lo sbarco degli alieni. Ecco non è che bisogna credere proprio a tutto anche se la tesi devo ammettere è piuttosto intrigante. Comunque disegni misteriosi si trovano anche nella grotta di Domboshawa inserita in un contesto naturale che merita assolutamente una visita. Come è da non perdere il luogo che ha dato origine al paese, Great Zimbabwe. Si tratta del più importante sito archeologico dell'Africa subsalariana e si pensa possa essere il favoloso paese biblico di Ophir quello da cui proviene la mitica regina di Saba. Le imponenti mure di cinta in pietra, le strutture labirintiche e i numerosi reperti trovati qui compresa la statua dell'uccello divenuto poi simbolo del paese confermano quanto sia speciale questa mistica attrazione. A conti fatti lo Zimbabwe è proprio un posto tutto da scoprire. A conti fatti lo Zimbabwe. A conti fatti lo Zimbabwe